Oggi ragazzi vi spiego come trovare quella famosissima pianta per potenziare le nostre creature che noi evochiamo Possiamo anche evocare noi stessi ed è veramente una figata pazzesca perché il mio gemello fa tutto E visto che l'ho potenziato a livello 10 Oggi vi mostro come sbloccare tutte quelle piante al negozio della tavola rotonda facile facile Quindi questo è l'altopiano di Altus Entrate qua dentro nelle catacombe e sconvincete questo boss Tanto non ci vuole niente, è facilissimo, è solamente un micio con la spada Andate a destra, sbloccate, fate tutto quel casino Scendete qua sotto, entrate nella box fight, uccidete il boss e vi darà un globo Un altro posto dove cercare è molto complicato Dobbiamo scendere qua sotto dove sta il fiume Però prima cosa dirigetevi in questo posto, sconvincete il cavallere Una volta sconfitto salite su questa collena, andate da Ranni Ranni vi darà una clessitra e la dovete mettere qui alla biblioteca Poi fate una missione per Ranni, ritornate da Ranni di nuovo Minchè è un casino, ritornate di nuovo da Ranni e poi vi teletrasporterà In questo posto, questo posto sotterraneo, qua sotto, qua, proprio qua Dovete farne di strada per arrivare qua, ma non vi preoccupate tanto su Youtube Ne troverete un sacco di guide Poi a Noxtel, la città eterna, qui troveremo un altro globo Sì, un altro globo, per sbloccare la pianta, là per potenziare i nostri spiriti Proseguite da questa parte, non fateci caso a questi coglioni qua Girate a sinistra, stiamo facendo scuola guida, girate a sinistra Buttate sotto le persone Non scherzo, non scherzo Entrate qua dentro E lì, proprio lì, aprite quel baule E all'interno troverete un altro globo E quindi Però, se volete cercare altre piante Qua sotto ne troverete a migliaia Cioè di livello 7, 8, 9, pure 10 Come potete vedere, questa è una pianta Di livello, oh, spettrale 7 Che vi servirà moltissimo Un altro posto dove cercare Ultimo posto è qui Al pozzo del fiume, quindi a Nocron, città eterna Molto semplice per arrivarci E qui, su questo cadavere, troverete un altro globo Facilissimo, cioè non ci vuole niente Se vi trovate in questo punto della storia Sapete già dove cercare i globi Quindi grazie a tutti per questa visione E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao